Il container arriverà fra tre settimane. Ah, bene. Quando avrai trovato un appartamento, dovrai solo chiamare questo numero per dargli il tuo nuovo indirizzo. A ridarti tutto, penseranno loro. Io amo le donne organizzate. Sa, fa parte del mio lavoro, professor De Dallius. Sicuro di voler ritornare? Ne mancherai. I bel Ulisse rientra a Ittaca. No, non sono Ulisse. Io non ho nostalgia del mio paese. Beh, allora, perché ci torni? Perché credo che sia necessario. Ha sempre saputo di dover tornare. È un brutto sogno quello che io sto facendo. Irina. Sto zitta. Non dire nulla. Fai subito un sortilegio per farti dimenticare. In un attimo. Dai. Sparisci. Vorrei avere un ricordo di te. È quando sarò una anziana dama. Mi ricordo. Mi ricordo. E' la cosa. Sarò una cosa. Mi ricordo.